Benvenuti avventurieri, oggi mi trovo nel versante nord del parco dell'Etna per visitare una grotta lavica preistorica. Questo di per sé è già abbastanza interessante, ma la vera chicca è che si tramanda che nella seconda metà del 1700 è stata modificata da una banda di briganti con stratagemmi utili a nascondersi e a far sparire velocemente l'area furtiva durante gli inseguimenti. Da qui il nome di Grotta dei Ladroni. Verità o credenza popolare? Andiamo a scoprirlo. Ci vediamo dopo la sigla! Grotta dei Ladroni Quota 1550 nel versante nord dell'Etna senza inoltrarci in un altro mistero di questa zona, i boschi di Betulle. Come ha fatto questa specie arborea tipica dei paesi dal clima gelido del nord Europa a spingersi fin qua giù? La risposta è nell'ultimo periodo glaciale che ha provocato l'estensione dei ghiacciai fino all'attuale zona temperata. Al termine della glaciazione le temperature tornarono ad innalzarsi e la Betulle andò scomparendo dall'isola, restando confinata nella sola zona dell'Etna, l'unica a mantenere condizioni favorevoli alla sua sovravivenza. A rendere ancora più speciale la Betulla dell'Etna fu anche la successiva fase di adattamento, che l'ha portata a diventare una specie endemica, cioè unica al mondo ed esclusiva di questa zona, con nome scientifico di Betulla etnensis, capace di sopravvivere sia al freddo che al caldo estremo. E così adesso questa bellezza nordica che ha deciso di vivere in Sicilia, con il suo tronco bianco che sorge dal nero della pietra lavica e i caratteristici solchi a forma di occhio sulla corteccia, ci regala uno scenario da avventure fantastiche. E a proposito di avventure, torniamo alla nostra. Ed eccoci giunti al sito della Grotta dei Ladroni. La prima cosa che possiamo notare sono cinque staccionate circolari che segnalano la presenza di cinque buchi nel terreno. I due più esterni sono gli ingressi della grotta. I tre nel mezzo sono dei pozzi scavati dall'uomo che mettono in comunicazione la superficie con il tetto della grotta. Ed è proprio la presenza di questi tre buchi nel terreno che ha dato il via alla leggenda, che vuole che siano stati praticati da una banda di briganti che si aggirava nella zona per liberarsi velocemente dal bottino durante gli inseguimenti, per poi venire a recuperarle in un secondo momento entrando in questa loro grotta rifugio. Uno di questi pozzi adesso è parzialmente ostruito dal tronco di un albero di betulla, che è riuscito a germogliare dal bordo del pozzo affondando le radici nella pietra larica. Un altro esempio di quanto la betulla etnensis sia capace di adattarsi. Non a caso la betulla è anche un simbolo di forza e di rinascita. Un altro elemento che ha contribuito alla leggenda è la ripida trincea realizzata in prossimità di questo ingresso. Completamente invisibile dall'esterno, permette di sparire velocemente dentro la grotta, anche con un cavallo, con un effetto alla apri di sesamo. L'origine della grotta si perde nella notte dei tempi, in quanto è stata generata da una qualata lavica preistorica. Al contrario, per quanto riguarda le modifiche apportate dall'uomo e attribuite ai ladroni, abbiamo addirittura una data di riferimento incisa qui all'ingresso, 1776. Ok, Gregari, entriamo nel vivo dell'avventura. Andiamo a scoprire la verità su questa grotta. Ecco qui uno dei pozzi, che a mo' di lucernario, anche se molto fievole, lascia filtrare un po' di luce all'interno. La struttura della grotta ha una certa simmetria, con i due ingressi che danno su due larghe cavità collegate da una galleria. Quella dove ci troviamo adesso è la più grande delle due. Secondo la leggenda, era il quartier generale dei briganti, il rifugio dove i ladroni si riunivano periodicamente per organizzare le loro attività. Infatti questa cavità viene chiamata Salone dei Ladri. Nonostante fuori faccia decisamente caldo, dentro la grotta c'è un bel freschetto. Questo perché la lava solidificata è un buon isolante. Come state notando, l'interno di questa grotta è molto diverso da quello di una classica grotta carsica, in quanto si tratta di un tunnel di scorrimento lavico. Il meccanismo che porta alla formazione di queste gallerie prende il via dal fatto che la parte esterna di una colata lavica a contatto con l'aria tende a raffreddarsi velocemente e solidificare. Questo può portare alla formazione di due argini di lava solidificata ai lati della colata, che tendono a diventare sempre più spessi e alti, fino a congiungersi nella parte sommitale della colata. Come abbiamo detto, la lava allo stato solido è un potente isolante. Questo fa sì che la colata all'interno di questi canali continui a mantenere la sua temperatura, e quindi a restare liquida e a fluire liberamente. Questo però spiega solo parzialmente la formazione del tunnel. Affinché alla fine dell'eruzione, terminata la spinta, la lava non si fermi all'interno della galleria e solidifichi riempiendola, occorre che entri in gioco un altro elemento. La lava deve essere di un tipo molto fluido, come lo è quella dell'Etna. Questo fa sì che su un percorso con una buona pendenza e privo di ostacoli, la lava riesca a prendere sufficiente velocità per fluire via dal condotto non appena l'alimentazione della colata viene a mancare, lasciando la galleria cava. A questo punto non resta che pazientare il tempo che si raffreddi e la grotta lavica sarà pronta per essere esplorata da noi impavidi avventurieri. Ok, adesso proseguiamo attraversando la galleria che porta alla cavità in direzione dell'altro ingresso. Il casco in questa grotta, più che ripararci dalla caduta di pietre, è utile per proteggere il capo dagli urti accidentali contro il soffitto, che è una vera e propria grattugia. Questi colaticci di lava o stalattiti da rifusione per la loro somiglianza e soprattutto l'alta pericolosità vengono infatti comunemente chiamati denti di cane. Ammiriamo l'attaccamento alla vita della betulla da un'altra prospettiva. Ed eccoci alla seconda cavità, detta Sala Houelle, da Jean Houelle. Chi era costui? Il capo dei ladroni che aveva diritto ad una stanza tutta per lui? Niente affatto. Si tratta di un famoso artista e viaggiatore francese. Il nome di questa sala è dedicata a lui perché l'ha immortalata in un quadro durante una delle sue tappe in Sicilia. Eccolo qua. Ho portato una riproduzione perché, osservandolo, ci accorgiamo che si tratta di un quadro rivelatore in quanto è immortale a quest'antro con degli operai al lavoro che portano all'esterno dei sacchi pieni di ghiaccio. Il contenuto dei sacchi è esplicitato dal titolo dell'opera Grotta della Neve, in italiano. Questo ci fa capire che questo posto originariamente è stato utilizzato come neviera. Le neviere sono stati i primi frigoriferi della storia. Si tratta di fosse profonde, 2-3 metri, isolate con la paglia e riempite di neve. Che, ben pressata durante l'inverno, durante il processo diventava ghiaccio. Queste fosse potevano essere create dall'uomo o di origine naturale. Una grotta come questa, interamente formata da un isolante naturale e situata a una quota dove si forma la neve, era certamente perfetta per questo utilizzo. Prima che il frigorifero fosse inventato e si diffondesse, vendere il ghiaccio era un vero e proprio lavoro. Grazie al ghiaccio si potevano conservare i cibi, si poteva preparare il gelato, o in medicina si potevano raffreddare parti del corpo umano prima di un'operazione chirurgica. Scoprire il reale utilizzo della grotta ci permette adesso di fornire una spiegazione più plausibile a tutte le modifiche praticate dall'uomo. Le scalinate servivano ad agevolare il passaggio degli operai, i fuori sul tetto a velocizzare il riempimento gettando la neve dall'alto, la trincea a favorire il passaggio di animali da Soma come muli. Dopo che quest'antro è stato riconosciuto nel quadro di UL, la grotta è stata ribattezzata Grotta delle Nevi. Ma evidentemente la spiegazione è arrivata troppo tardi. Nonostante la leggenda della Grotta dei Ladroni, nata in un momento in cui si era persa a memoria del reale utilizzo di questo posto, e in cui sembra se girasse davvero nella zona una banda di briganti sia stata completamente smentita, il popolo aveva già deciso per cosa l'avrebbe ricordata. Del resto, siete sinceri, Se vi capitasse di portare qualcuno a visitare questa grotta, voi quale storia gli raccontereste? E anche per questo episodio è tutto. Se questi contenuti vi piacciono, mi raccomando, continuate a supportare il canale con mi piace, condivisione e commenti, soprattutto iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, per non perdere gli aggiornamenti. Alla prossima!